Non guardarmi così. Victor Bara quando gioca a Faro lo sanno tutti. Arnaud, con chi parli? Nessuno, signore. Sarai felice di sapere che ho convinto Olivier a non chiamare i gendarmi. Di nuovo. Vi ringrazio, signore. Che cos'è? La sesta volta? La settima? Dovresti scegliere passatempi più salutari. Beh, trovo che il gioco delle carte comporti molto esercizio fisico e tanta aria fresca. Ne riparleremo più tardi. Ho affari urgenti e devo prendere Elise prima di andare in città. Elise è qui. Solo per stanotte. Tornerà a Parigi domattina presto. Le servirà una scorta, vero? Vi vedo preoccupato. Non posso controllarvi tutti e due. Resta qui e vedi se Olivier ha bisogno di te. Scommetto di sì. Cosa? I miei omaggi a Elise. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.